E cos'è? Nooo! Ma è bellissimo! E' bellissimo! E' bellissimo! E' incredibile! E' bellissimo! E' bellissimo! 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 Io adoro ste robe! E' veramente troppo bello! Troppo troppo bello! Tegamino! Ma è un clickbait! Oh! 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 Ma che tier list di merda è! Boca live di merda! Mamma mia! O mi svegliate i tuoi! Nooo! Nooo! No, no, no.